La mia idea è che se vogliamo veramente dare forza ai territori, risposte diverse ai cittadini, ai bisogni del nostro paese, si deve dare più autonomia alle città, ai piccoli e ai grandi comuni, perché è lì che c'è una forte democrazia, una forte spinta, una forte rivendicazione di autonomia. L'operazione Veneto mi sembra un'operazione di altro tipo, che non rafforza l'unità d'Italia nelle sue grandi differenze, ma se qualcuno vuole lanciare la sfida delle autonomie e di chi più ha dato e di chi ha più bisogno e più giustizia, noi siamo pronti, del resto abbiamo presentato già un progetto Napoli città autonoma, io credo che l'Europa debba partire dalla forte autonomia delle città, quindi su questo noi siamo pronti a qualsiasi sfida, mai contro ma sempre per, e soprattutto per il popolo, per i diritti, per i bisogni e per dare forza e autonomia in particolare alle città. Da là dovrebbe ripartire l'Italia, non tanto da una forte potere alle regioni, perché là poi sono sedi dove spesso si è molto distanti dai bisogni dei cittadini.